molto grave non solo dal lato professionale che veramente sono stati molto grave anche se per noi uomini non è che si voglia tantissimo però poi per vedendo anche le attrici che che lavorano con noi un grandissimo bel lavoro perché non è facilissimo per il cinema perché truccare magari per un matrimonio dove magari ti puoi svizzarire fanno colori soprattutto anche per il trucco per gli uomini non si deve proprio vedere deve essere molto molto naturale e farlo bene non è così scontato ea parte poi del lato umano sono veramente state di di gran compagnia brave professionali allora siamo sul set di alessandra un grande amore niente più una commedia un po fantastica un po romantica un po musical un po di tutto praticamente con le musiche di peppino di capri e oggi stiamo girando la scena le torte di alessandra perché nostra protagonista è una che che design in questo in questo progetto il cast come sapete c'è giù muniz sarà danier e leona raffacchini rosana di cicco giacomo rizzo pietro di silva quindi un bel custom e noi ci avvaliamo della collaborazione non liana paduano e che la seconda seconda volta che collaboriamo insieme che loro sono state con noi anche sul set di essenti comprarsi una sedia e le ragazze devo dire sono attentissime precise puntuali perché come sapete il cinema ogni dettaglio è importante niente può essere lasciato al caso e ci auguriamo che questa nostra collaborazione possa comunque continuare per il futuro e vi invitiamo al cinema a vedere questa commedia che alla fine parla della cosa più semplice ma dalla cosa più complicata del mondo e che è l'amore e quando un amore è così grande niente più abbiamo detto tutto ok siamo qui negli studi di quarta rete sul set di alessandra un film di amore e niente più io mi chiamo margherita amore sono la truccatrice di pasquale falcone e con me ci sono sarà e camilla ringrazio la scuola di liliana paduano che mi ha mandato queste truccatrici che sono eccezionali veramente bravissime mi hanno dato una grande mano sul set sono puntuali precise soprattutto rispettano i tempi perché perché il make up sul set è veloce deve essere veloce e fatto bene e loro in questo sono state bravissime fin dal primo giorno ci è capitato di truccare tantissimi attori con una tempistica di 10 minuti e loro sono state eccezionali in questo grazie